Tutti i staff di coach e tutti gli altri ragazzi erano eccellenti, cercando di aiutare con la terminologia. Ho ancora molto da imparare, ovviamente, ma sono molto felice di essere qui e spero ai prossimi giochi. Sono contento, so che posso fare molto meglio a livello di percentuali, statistiche e tutto quant'altro, ma la cosa più importante per me è dare un contributo sempre. Non mi interessa fare 20 punti, prendere 15 rimbalzi, so che posso essere d'aiuto in tanti modi, giocando in difesa, parlando e aiutando i miei compagni, quindi farò di tutto per essere il più utile possibile. Simone, per noi che sono conosciuti con il tuo gioco, ti sembra di giocare come hai fatto quando eri in Utah, quando eri in un situazione comitato. Coming into the game, was there any conversations internally about playing like yourself, but also trying to not overdo it, being with a new team, or were they all kind of just be you? No, they were just like, you know, go out there and hope. We're not expecting you to, you know, play perfect in defense, in offense, non knowing the set, non knowing anything, basically. But just go out there and have fun, be you, and try to play as hard as you can. That's what I always do, and I'll try to do whatever. ovviamente è estremamente busy getting traded in the middle of the season e on top of that a West Coast swing can you walk us through the last few days just the process of actually getting to this point to where you can make your debut three days later I got the news on I think it was Wednesday I don't even know what day is today so I think I got the news on Wednesday and I admittedly spoke with Troy with George with Coach Manny and everybody was welcoming welcoming me arms wide open and it was great for me obviously it was a little bit shocking I got a family, I got a wife, I got a daughter so it was a lot for them to take but everybody supporting me, my family is the most important thing for me so them being able to to support me is the most important thing so that's great and you know just the last two days I flew to Detroit took my physicals and then yesterday we flew me, Troy and Shake from Detroit through Denver and we got here last night so this morning got up and hoop that's the yeah that was the mindset that was the most important thing Penso che loro sappiano quello che valgo, mi hanno voluto anche per questo perché hanno visto quello che posso fare all'interno di un campo NBA, quindi farò semplicemente tutto ciò che mi chiedono cercando di essere chiaramente produttivo ma come ho detto facendo le cose giuste, giocando più duro che posso come sempre e aiutando gli altri anche a livello vocale sicuramente. Grazie.